L'ultima sorpresa negativa è di ieri mattina, quando il Cremona Treviglio delle 5.32, che diventa il diretto per Milano delle 6.20 da Crema, si è fermato e i viaggiatori di Trenord sono stati costretti a scendere a Treviglio centrale per aspettare la prossima corsa, con il risultato di un ritardo enorme all'arrivo al lavoro o all'università. La causa del disservizio, proprio su una linea che è stata resa diretta per favorire i viaggiatori cremaschi, è stato un guasto del sistema di apertura e chiusura delle porte delle carrozze che si è bloccato, obbligando il treno a fermarsi a metà percorso e non ripartire più. La lunga serie di guasti e ritardi ha colpito tutte le linee cremonesi in giugno, culminando nel bonus pagato da Trenord agli abbonati, che potrebbe essere confermato sull'abbonamento di ottobre per i disservizi del mese di luglio. La vita dei pendolari trascorre fra convogli vecchi, una fita rete di passaggi a livello pubblico e privato da eliminare, stazioni da riqualificare, infrastrutture obsolete spesso colpite dai guasti. Il consigliere regionale bresciano Gian Antonio Di Girelli del PD ha presentato un'interpellanza all'assessore Alessandro Sorte per chiedere che cosa farà la regione per migliorare la Cremona Brescia dopo i gravi disagi del 25 e 26 giugno culminati nel malore di una ragazza soccorso del 118. Il treno era una monocarrozza diesel, ancora una volta sovraffollata, al punto che una ragazza è stata colpita da malore. Sorte ha annunciato una serie di lavori da parte di reti ferroviarie italiane non oltre l'anno prossimo per migliorare il funzionamento dei binari e degli scambi tra Olmeneta e San Zeno, la manutenzione della stazione di Olmeneta, ascensori a Cremona e vari altri interventi, cancellando i monocarrozza sovraffollati. Gian Antonio Girelli ha commentato che è tempo di agire e non di promettere. Di raddoppi dei binari e treni nuovi intanto l'assessore non parla più, mentre i disagi continuano come oggi sulla Milano-Cremona. Il treno delle 17.36 si è fermato poco dopo la stazione di Porta Garibalti senza che se ne capisse il motivo. Altri interventi urgenti sono stati chiesti sulla Parma-Brescia che attraversa Casal Maggiore e Piadena, frequentata da numerosi studenti, ma colpita anch'essa da ritardi e guassi, a volte clamorosi.